Questo video è offerto da Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del concerto IAP We Rock in memoria di Marcello Giordani. Sono stati dei momenti molto difficili, io infatti chiederei subito al sindaco di porgere i suoi saluti come padrone proprio di casa e chiedo proprio un piccolo chiarimento, sono momenti difficili, fino all'ultimo siamo stati un po' tutti col fiato sospeso però sempre all'insegna della sicurezza c'era una sorta di impegno da mantenere che non solo nei confronti della città ma sicuramente nei confronti di Marcello Giordani. Sì buongiorno a tutti, sono giorni difficili ma questo non significa che non devono essere giorni vissuti quindi con una certa normalità, con ottimismo e con coraggio. Era un evento questo a cui non volevamo assolutamente rinunciare per tutto quello che significa e lo hai detto già bene tu e quindi nel rispetto di tutte le norme che oggi sono quelle su cui noi dobbiamo necessariamente fare riferimento e sia l'ordinanza del Presidente della Regione sia quelle nazionali ci danno la possibilità tranquillamente di continuare a fare gli spettacoli dell'estate augustana e con il distanziamento, con l'uso della mascherina, con l'utilizzo del Green Pass un po' come avviene in tutta Italia, mi verrebbe da dire forse anche oltre gli spettacoli si stanno facendo è chiaro che bisogna essere ancora più attenti perché il numero dei contagiati in città seppur in questi giorni sta rallentando il fenomeno della crescita che non significa niente però, ripeto, con questo virus bisogna conviverci e la scelta di chi vive con questo virus è o quella di decidere di chiudere con il mondo di chiudersi a casa e quindi non fare niente più o quella di conviverci rispettando tutto quello che può evitare il diffondersi e soprattutto vaccinandosi e quindi noi stiamo spingendo da questo punto di vista questo era uno spettacolo che dovevamo, come ben hai detto tu, alla città, a Marcello e a tutti gli artisti che quotidianamente continuano nel suo ricordo a fare quello che ci ha lasciato e quindi niente, abbiamo aspettato quello che ci dicevano gli organi superiori giusto perché rispettosi della legge se qualcuno decideva che non dovevamo fare gli spettacoli non li avremmo fatti questo per fortuna non è successo e quindi sono sicuro che giorno 27 passeremo una bellissima serata in sicurezza anche distraendoci da questa pesantezza che ci sta pigliando nelle nostre vite di pessimismo di voler chiudere con quello che rappresenta per noi la vita si può continuare a vivere come prima rispettando e con maggiore attenzione e soprattutto cercando di vaccinarci grazie sindaco adesso vorrei un commento dell'assessore alla cultura Pino Carrabino che tanto ha voluto questa augusta d'estate l'ha curata un po' come si curano i figli con grande passione e dedizione però mi piacerebbe in particolare legare il suo intervento alla figura di Marcello Giordani perché questo yap we rock che ricorda la memoria io mi ricordo quando Marcello perché è stato Marcello proprio a inventare questo slogan che prende un po' da yes we can quindi perché no anche in questo momento noi possiamo e quindi lo dobbiamo fare lo dobbiamo a lui l'anno scorso la società augustana di storia patria ha dedicato anche proprio in questo periodo un contributo all'interno del notiziario appunto per ricordare Marcello Giordani e quindi ecco è un po' una memoria che deve continuare e lo farà anche se col pop perché a lui piaceva anche questo lo farà il 27 prego sessore sì grazie prendo volentieri la parola nel contesto di questo momento che vuole fare innanzitutto memoria di un nostro concittadino Marcello Giordani che è patrimonio della città lo stesso spettacolo è una preziosa eredità che abbiamo raccolto di Marcello e insieme alla famiglia già da mesi stiamo cercando di rafforzare di consolidare questo rapporto che ha una finalità Marcello è stato un innamorato della città e lo ha fatto donando quei grandi eventi che si sono svolti proprio qui nel cuore della nostra città in piazza Duomo noi abbiamo il dovere di fare memoria di questa figura che ha portato alto il nome della nostra città ovunque nel mondo se Augusta è conosciuta nei maggiori palcoscenici internazionali e grazie a Marcello sono certo che con la collaborazione della famiglia del maestro Cicero potremo rafforzare questa occasione di collaborazione e continuare nel solco tracciato da Marcello grazie Assessore per quella che ormai è per noi una conferma però ne abbiamo sempre un po' bisogno perché per noi veramente è una missione le autorità e la sinergia con le autorità diventa veramente fondamentale e io chiederei adesso a Michela di scendere un po' nel dettaglio noi abbiamo una special guest ma poi ci arriveremo come si fa nei pranzi importanti al dolce si arriva alla fine raccontiamo un po' per piccole battute cosa è stato IAP We Rock in generale la IAP è il pop perché non è la prima volta si ci arriva dopo un percorso che possiamo dire parte anche dalla strada e che però ha un po' come obiettivo quello di formare gli allievi dell'Accademia veramente al palco quindi un lavoro che non deve restare relegato nelle stanze ma che deve arrivare al palcoscenico sì buongiorno a tutti la IAP come ben sapete nasce come un'accademia di alto perfezionamento nell'ambito del canto lirico e del pianoforte classico quindi studi prettamente classici ma qualche anno dopo la sua fondazione abbiamo deciso di estendere i nostri insegnamenti anche alla musica moderna e quindi canto pop chitarra moderna pianoforte moderno batteria insomma avere un'accademia a tutto raggio e questa cosa ci ha aiutato molto nell'organizzazione degli nostri spettacoli che ovviamente una volta facevamo spettacoli prettamente di musica lirica e negli anni abbiamo iniziato a fare degli spettacoli di musica moderna questo spettacolo nasce anche il titolo di Up We Rock un segno di continuità in continuità nella formula e nel nome di quello che abbiamo fatto già lo stesso spettacolo un paio di anni fa con l'ospite d'onore Lorenzo Ricitra e adesso parliamo di Silvia Mezzanotte quindi cerchiamo sempre di proporre un nome importante per la nostra città e soprattutto per i nostri ragazzi perché questo spettacolo non dimentichiamoci sarà in sinergia con i ragazzi della nostra accademia che si esiberanno e saranno Giulia Pado e Giulia Princiotta quest'anno accompagnati poi ci saranno anche Adelaide Cavallaro che è una nostra carissima amica a livello didattico ragazza che l'anno scorso ha partecipato a X Factor e poi ovviamente ci sarò io che canterò e Valentina Marino noi ogni anno cerchiamo di dare la possibilità ai nostri ragazzi di esibirsi con i big della musica e speriamo di poterlo fare per ancora tanto tempo ora questa è la terza volta se non sbaglio che riusciamo a portare un ospite importante ad Augusta e sicuramente ce ne saranno degli altri in futuro e la band facciamo qualche no la band allora abbiamo il nostro carissimo Giuseppe Amara al basso Paolo Scuto alla batteria Fabio Vinci alle tastiere e Alberto Passanisi alle chitarre questa è la nostra formazione dei quali alcuni sono docenti della nostra scuola altri esterni e colgo l'occasione anche per passare la parola all'ingegnere Amara in modo anche da spiegare le nostre collaborazioni anche passate allora prima di passare la parola al bassista perché in questa in questa veste è quella di bassista bassista della IAP band ormai diciamo formazione quasi ufficiale che ha un po' il ruolo perché diciamo è più stagionato della band quello un po' nel papà di famiglia che traccia un po' il percorso e quindi anche gusti passioni e perché no anche dei ganci dei link per usare un termine straniero quindi come arriviamo a Silvia a mezzanotte e cosa vedremo cosa ascolteremo qualche anticipazione quindi mi trovo coinvolto in questo progetto per due motivi uno perché sono musicista o comunque suono il basso prima di definirmi così dall'altra parte io sono stato legato effettivamente a Marcello Giordani in modo importante e quindi ritengo di portare avanti quello che è stato il suo progetto diciamo sotto l'aspetto della musica rock e pop quest'anno la famiglia mi ha guagliato mi ha incaricato di ciò che faceva una volta Marcello ovvero bussare il porta a porta per trovare dei contributi dei finanziamenti per realizzare questo spettacolo scusate sono un po' emozionato quando parlo di Marcello purtroppo per me è una cosa dolorosa continua a essere ne ho parlato insieme alla famiglia Guagliardo con il nostro bravo sindaco che ha sposato a 360 gradi l'idea di avere a Silvia mezzanotte insieme allo spettacolo della IAP insieme ai ragazzi e quindi insieme a una decina di imprese con il contributo importante del comune di Augusta abbiamo messo finanziariamente parlando in piedi questo spettacolo come arriva Silvia mezzanotte da noi lo scorso San Domenico non questo l'altro quindi prima della pandemia ho avuto modo di confrontarmi con Silvia mezzanotte attraverso i social a cui ho proposto l'idea di venire a suonare a cantare per noi non con i suoi musicisti ma bensì con i musicisti dell'accademia cosa che lei ho raccontato di Marcello Giordani lei ha accettato subito e mi ha messo in contatto con il suo staff tanti problemi tecnici ovviamente perché un artista di quel calibro che viene salirà sul palco senza nemmeno una prova con dei musicisti sconosciuti ovviamente non è una cosa facile farla digerire lei l'idea era piaciuta all'inizio velocemente poi sono incontrati un po' di problemi che comunque abbiamo risolto noi abbiamo abbiamo fatto delle prove sostanzialmente a distanza con una base dove c'era la sua voce con un metronomo abbiamo potuto avere Silvia mezzanotte qui con noi Silvia mezzanotte in questo momento quindi dopo che ha lasciato i matti a Bazzar è dovuta alla morte del batterista una morte improvvisa anche lui anche sua giovane ha intrapreso la carriera solista in particolare quest'anno c'è comunque dall'anno scorso che lei dedica ai suoi artisti di riferimento delle canzoni reinterpretate a modo suo in particolare quest'anno la sua tournée vede canzoni di Mia Martini canzoni di Mina e un tributo insomma un piccolo accenno perché è un fatto degli ultimi tempi a Franco Battiato e quindi anche a Mattia Bazzar ovviamente quindi il il repertorio che andremo ad eseguire sul palco vedrà in particolare le musiche canzoni di Mattia Bazzar riviste con effetti moderni diciamo rispetto agli originali studio degli anni 80-90 e poi ci saranno delle canzoni di Mia Martini di Mina e Franco Battiato quella insomma famosissima per lui quindi insomma mi aggiungo che ci sarà il direttore artistico di Silvia Mezzanotte sul palco che è anche chitarrista oltre a essere diciamo la parte diciamo di direzione che arriverà domani e quindi con lui potremo fare l'ultima prova generale per aggiustare piccole cose Silvia arriverà venerdì mattina direttamente e quindi insomma poi loro sono fiduciosi che questo spettacolo sarà un spettacolo importante evidentemente il suo manager che ha anche persone in luogo che lo assistono che insomma avrà preso anche lui delle informazioni che è la città di Augusta insomma ha preso ben volere questo spettacolo qui insomma la presenza di Silvia Mezzanotte che ultimamente poi fra l'altro in televisione è sempre più presente tre giorni fa su Rai 1 insomma ha fatto un plug in acustico insieme al Carlo il fondatore il chitarista non mi ricordo adesso dei Mattia Bazzar ha fatto insomma lei è veramente molto brava una voce tecnica stratosferica io dico comunque aspettiamo il 27 per averla con noi apro una parentesi importante il gruppo che io rappresento lavorativamente parlando da qualche tempo si è associato all'associazione nazionale dei bambini delle fate è un'associazione che ad Augusta è seguita da Ielsa Speciale Cristina Gigi e da tanti altri insomma nella vostra organizzazione ci sono che in particolare in modo assiste i bambini autistici o comunque i bambini con delle problematiche di disabilità avevo condiviso questa avevo condiviso questa idea anche con il nostro sindaco di riservare uno spazio fisico importante per i nostri bambini con queste problematiche in modo che insomma possiamo far vivere questo momento questo spettacolo anche a loro che probabilmente sarebbero rimasti in casa con i genitori e quant'altro quindi ho coinvolto Ielsa Cristina in modo da dire portatemi tutti i bambini qui li vogliamo in prima fila dovranno stare insomma insieme a noi e divertirsi in quel momento e cancelliamo un attimo tutte le problematiche che cosa scopro che il marito di Silvia Mezzanotte si occupa di bambini autistici qualche giorno fa mi è stato detto quindi questa coincidenza non è una coincidenza veramente pazzesca e lei ha riservato anche degli studi delle cose che riguardano i bambini con le problematiche di autismo poi quando la incontreremo possiamo approfondire qualche cosa più in particolare per vedere insomma se possiamo cosa possiamo fare ecco in tal senza niente io ringrazio tutti insomma sarà sicuramente un bellissimo spettacolo ritengo per quello che insomma è stata l'organizzazione arriviamo quasi alla conclusione quindi come abbiamo potuto capire in realtà seguiamo quello che era un po' una tradizione per Marcello quasi ogni concerto della della IAP o comunque concerti anche prima della IAP quindi quando Marcello si è esibito c'è stata sempre una forma di beneficenza stavolta non essendoci un biglietto questo era comunque complicato però la visibilità indubbiamente e anche quei legami che si creano con le aziende che stanno supportando il nostro concerto farà sì durante la serata dello spettacolo di poter parlare dell'associazione 20 novembre di come opera sul territorio e dei bambini delle fate materialmente cosa possiamo fare noi perché lo si può fare lo si può fare anche con un contributo piccolissimo che può partire dai 20 euro in su mensile per assicurare delle attività trattamentali sul territorio e ce ne parlerà ecco anche quella sera IELSA che oggi anzi io direi facciamo una sorta di fuori programma IELSA vieni giusto sfruttiamo ecco questo ponte che ci permette grazie a Webmart di arrivare a voi e di farlo comodamente in sicurezza prego IELSA per avere ecco brevissimamente qualche informazione come fare per contattare la vostra associazione quindi la vostra attività di fundraising in che cosa si concretizza grazie buongiorno a tutti io intanto come rappresentante dell'associazione 20 novembre ringrazio il sindaco tutta l'amministrazione comunale per questo invito a questo evento straordinario e poi in modo particolare la GESPI la GESPI che già ha cominciato da diversi mesi a sostenerci attraverso un aiuto costante appunto come dicevi tu Michela attraverso un fundraising una raccolta fondi noi attraverso i bambini delle fate che è un mezzo per poter dare la possibilità all'associazione sul territorio di realizzare dei progetti dei progetti per bambini per ragazzi adulti con disabilità progetti importanti perché sono le uniche risorse per questi ragazzi per poter avere uno scopo la mattina per alzarsi loro sanno che ogni giorno vengono in associazione per attività di agricoltura sociale adesso cominceremo anche un corso di cucina per un gruppo di loro per i laboratori che noi abbiamo un'equip di psicologi e pedagogisti che specializzati che creano proprio dei percorsi adatti individualizzati per ognuno di loro Gespi ci sta dando questa possibilità di poter finanziare questi progetti per noi è di fondamentale importanza è vitale io ho mio figlio quindi sono oltre che rappresentante dell'associazione sono anche mamma quindi vivo ogni giorno nella speranza di poter dare un futuro migliore a mio figlio che ora ha 26 anni penso sempre a un domani al dopo di noi e questo è qualcosa che tengo veramente il mio sogno è quello di poter creare un centro per la disabilità da Augusta un punto di riferimento per tutti dai 0 ai 120 anni per tutti coloro che hanno che vivono quotidianamente la disabilità io spero e credo in questo sogno e penso che forse adesso ci sono le condizioni per poterlo realizzare quindi io vi ringrazio per l'opportunità questa sera sarà per i nostri ragazzi un momento di svago dopo tutto questo lungo periodo di un anno e mezzo di difficoltà che per noi sono state doppie mi permetto di dirlo mi prendo un altro secondo è stato un anno e mezzo terribile che noi affrontiamo con il sorriso perché la nostra la nostra diciamo così visione della vita dobbiamo sorridere però in realtà ognuno all'interno delle proprie case ha vissuto dei momenti veramente difficili quando la disabilità è gravissima ti trovi solo questo evento può essere un augurio per il futuro e per poter ricominciare a settembre non ricomincieremo le attività tutte le attività nel migliore dei modi anche con questo diciamo con questa spinta questa carica in più grazie ancora grazie a te Yelza per quello che fai per la passione che ci metti e sembra sempre di parlare di Marcello abbiamo iniziato con lui e con lui chiudiamo perché eravamo insieme con Rosario con Michele con Vilma e facciamo pagliacci e tanti di questi ragazzi Yelza tutto lo ricorderai sicuramente erano con noi ed erano figuranti per volontà proprio di Marcello nel senso la voglia era quella di tingere tutti i volti perché per un secondo e sul palco tutti veramente siamo uguali anzi forse qualcuno un po' più bravo perché è più disinibito è più sciolto ha veramente quella grande grande capacità quindi in realtà a lui si ci arriva si inizia e si chiude noi chiudiamo così io voglio passare solo un attimo la parola a Rosario perché se parliamo di Marcello parliamo parliamo della lirica e di tutti gli spettacoli che abbiamo fatto e che quest'anno chiaramente vengono un po' a mancare la piazza non ha sentito ecco le note di Marcello non ha sentito veramente quella forza quella potenza però noi abbiamo un appuntamento importante e questo potrebbe essere un appello questo appuntamento per noi un po' come una data fissa sarà a ottobre buongiorno a tutti io sono molto emozionato mi viene più facile comunicare con la musica che con la parola però vorrei dire che Marcello c'è e noi lo dobbiamo fare vivere nella nostra memoria e lo faremo vivere con queste iniziative questi concerti lui era pop lui era moderno lui era classico lui era la lirica era un artista a 360 gradi a ottobre il 5 ottobre ricade il secondo anniversario della sua scomparsa e noi lo vogliamo ricordare io apprezzo l'amministrazione che è molto attenta e vicina ai nostri progetti e sicuramente ad ottobre faremo qualcosa per ricordarlo e anche ad altissimi livelli abbiamo diversi appuntamenti non voglio avanzare nulla per adesso insieme a Vilma andremo a parlare con il teatro Massimo Bellini a giorni vedremo se riusciamo a decentrarlo e a fare un evento che possa veramente ricordare la memoria di un grande artista dove io ancora ricordo come l'ho conosciuto e mi piace sempre ricordarlo e ripeterlo sempre metropolita di New York all'esterno la sua immagine dove c'era scritto tenore Sicilia e tra parentesi Augusta quindi pensate lui come ci tiene alla sua città io con il mio staff i miei collaboratori facciamo di tutto per portare avanti soprattutto la sua memoria grazie grazie Rosario e allora cosa dirvi grazie per essere stati qui ringrazio la stampa l'appuntamento e per questo venerdì 27 in piazza Castello mascherine green pass distanziamento è veramente tanto senso del rispetto poi lasciatelo a casa venite con il cuore libero godetevi una serata di memoria e di musica a presto grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti